Con gli sgabelli, sperando che ci possa inciampare nelle sue corse avanti e indietro per il palco, lo conoscete già, non faccio grandi presentazioni perché non ha bisogno di altre presentazioni, ma abbiamo il nostro community manager responsabile comunicazione e marketing, Alessio Fattorini. Eccoci, l'ho fatto un po' sfocare, ho fatto stare in maniera un po' sul palco, ce l'ho? Guarda un po' se ce l'ho, mi fanno sempre penare con ste slide, ecco sì, questo è il nome mio, ok, ci sono, ci sono, perfetto. Allora, questa storia parte con due ragazzi, due ragazzi, due fratelli, in un laboratorio, un piccolo laboratorio che si trova nell'Ohio, negli Stati Uniti, siamo fine 1800, questi ragazzi sono dei bravissimi artigiani e stanno costruendo un veicolo che all'epoca diventò di moda e utilizzò un sacco di persone, costruiscono biciclette, hanno fatto delle biciclette veramente innovative, questa è una di quelle che vendette tantissimo, le persone cominciavano a spostarsi, una di quelle più moderne, quindi di giorno questi ragazzi costruivano biciclette, ma di notte nel loro garage, nel loro laboratorio, costruivano un sogno grandissimo, loro si chiamavano Wilbur e Oliver Wright e di notte costruivano delle macchine volanti. Ecco, le macchine volanti nel fine 1800 è una cosa molto strana, erano presi veramente per matti, noi adesso siamo abituati alla nostra quotidianità, prendiamo un aereo, ne prendiamo due, vogliamo dall'altra parte del mondo, ma nel fine 1800 volare non era solo impossibile, era impensabile, erano qualcosa di simile al giorno d'oggi andare a vivere su Marte, ma loro avevano questo grandissimo sogno e seppur questa cosa sia nella notte dei tempi, come dice Leonardo, il desiderio di volare è stato sempre insito nell'uomo, è l'afflitto da quando il primo uomo guardò gli uccelli e sognò di unirsi insieme a loro. Che è quella cosa lassù? Oh sì, naturalmente, eccolo qua. Vuoi dire che l'uomo volerà un giorno o l'altro? Ah, se l'uomo fosse stato creato per volare sarebbe nato con le ali. Sto per dimostrare il contrario, Anacleto, se ti degnerai di osservare. Eccolo, che forte! Oh no, 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 no! L'uomo volerà e come? Come un petto di piombo! Avrebbe funzionato se non fosse stato per questa maledetta barba! Un giorno l'uomo volerà, ti dico. Io ci sono stato, l'ho visto. Oh, lo spero proprio. Ho sempre sognato di volare. Eppure ci hanno provato in tanti a volare, ma tantissimi. Ottolino è stato uno dei più grandi pionieri tedeschi. Costruì queste ali enormi con cui planava. Fece questa cosa per tanti anni, finché cade da 15 metri d'altezza, si rompe l'osso del collo e quindi dovete finire di fare le sue prove. Ci provò Samuel Langley, che era un segretario della Smithsonian, un'associazione famosissima in America, tecnologica, professore di fisica, milioni di dollari di sombezioni, costruì questi aerodromi enormi che poi cadevano nell'acqua con grossi tonfi, spendendo un sacco di soldi. Ma ci provarono anche gente come Chanute, che era quello che creò tutti i prototipi d'agliante, quindi un professore, Bell, inventore, Thomas Edison, tutti ci provarono, tutte menti eccelse. Non ci riuscì nessuno. Questi due ragazzi non avevano fatto l'università, non avevano fatto nessun apprenditato tecnico, non conoscevano le alte sfere, si conoscevano solo tra loro, lavoravano solo tra loro in questo piccolo garage, non avevano sussidi governativi di alcun tipo, non avevano soldi, prendevano i soldi che arrivavano dalle vendite delle biciclette e li investivano nelle loro macchine volanti. e in più potevano anche farci abbastanza male con i loro voli planati, per cui i fratelli Wright. Però i fratelli Wright avevano una piccola intuizione, ed era questa. Gli uccelli sanno come levarsi in volo, sanno come levarsi in volo, quindi poter volare è fluttuare nell'aria, quindi usano il vento invece dei loro muscoli. Questa è l'intuizione grossissima che li ha sempre guidati. Quindi al posto di creare delle ali enormi, imparare a fluttuare nel vento. Il problema quindi, secondo loro, non era avere le ali per volare, cioè avere la tecnologia per volare, ma era rimanere nell'aria più possibile, rimanere nel vento, spinto dal vento, ovviamente. Quindi il loro obiettivo era questo. e siccome erano dei bravi costruttori di biciclette, hanno capito che il parallelismo era molto facile, perché come loro trovavano l'equilibrio sulla bicicletta, dovevano trovare l'equilibrio nel vento. E quindi trovare questo equilibrio nel vento era il loro obiettivo principale. Il problema è che trovare l'equilibrio nel vento non era così facile, perché il vento era come domare un cavallo imbizzarrito. Quindi trovare l'equilibrio lì sopra era abbastanza complicato. Quindi cercarono di lavorare su tre cose principali. La prima era controllare l'alliante. Loro avevano un sacco di cavi, cavetti che costruivano delle cose, volanti, manubri, perché dovevano essere in grado di girare l'ala, di modificare, avere la portanza, quindi muovere la coda, perché l'alliante si doveva adattare a dei venti abbastanza assurdi che potevano tirare da ogni dove. La seconda cosa è che diventarono dei grandi conoscitori dell'aeronautica, che in quell'epoca era una scienza abbastanza sconosciuta, per cui sollevamento, l'olio, beccheggio, portanza, tutte queste cose sentite ormai abbastanza moderne. Quindi diventarono veramente esperti nella conoscenza di queste cose. L'ultima cosa che capirono, essenziale per l'equilibrio, era che non c'era possibilità di volare senza essere abili di volare. Loro dovevano imparare a volare, dovevano fare esperienza di volo. Otto Lilienthal ha fatto cinque anni di voli, era stato in aria, loro avevano calcolato due o tre minuti in totale, perché non riusciva a stare in aria, planava e poi cadeva. Loro dovevano stare in aria il più possibile, quindi dovevano imparare questa abilità complicatissima. Infatti Orville dice imparare il segreto del volo di un uccello è una cosa molto simile a imparare il segreto della magia di un mago. Il problema è che nessun mago aveva fatto mai quella magia nella storia dell'umanità. quindi era abbastanza complicato. Hanno cercato di risolvere il problema, il problema del vento, sono andati in un posto sperdutissimo nel North Carolina, a Kitty Hawk, in un posto in cui tiravano un vento fortissimo perché loro avevano bisogno di stare in aria il più possibile, in un deserto bianco, quindi anche quando planavano dovevano arrivare sulla sabbia morbida. stessero lì parecchi anni a fare voli su voli, distrussero una marea di aldianti finché un giorno cambiarono completamente la traiettoria dell'umanità per quanto riguarda il volo perché il 17 dicembre del 1903 Orville stava steso sopra l'aldiante di fianco al suo fratello che lo stava guardando in cui non c'era nessuno che li guardava, nessuno, non c'era un giornalista, non c'era nessuno, riuscirono a fare 250 metri per rimanere in aria 59 secondi. La prima volta che un essere umano con un motore a scoppio che avevano costruito loro riuscì a gestire un volo controllato di quell'entità. Allora, che cose segnano i fratelli Wright a noi oggi? Prima di tutto vi faccio notare una cosa, che i fratelli Wright non hanno costruito la macchina volante migliore, non solo, hanno costruito un'altra cosa, sono diventati padroni dell'aria, hanno costruito un'esperienza, hanno imparato a volare, hanno costruito un'abilità. Questa è la cosa che li ha differenziati rispetto a tutti quelli prima. Perché l'aliante migliore non bastava. Quindi ci dicono una cosa importante, cioè che loro erano convinti che saper controllare la tecnologia era importante come la tecnologia stessa. Noi che siamo tanti fissati con la tecnologia, loro avevano capito che conoscere la tecnologia era una cosa altrettanto importante. Quindi hanno costruito una nuova abilità. Ci sono fatti tanti voli, hanno distrutto tanti aglianti, tanto, tanto tempo per costruirsi questa abilità nel tempo di poter volare lì sopra. Quindi ci dicono una cosa importante, che per poter crescere e innovare, l'esperienza è fondamentale. Il problema è che loro non avevano nessuno a cui chiederla. Nessuno. In tutti i campi l'esperienza e la conoscenza è fondamentale. Voi invece siete un pochino più fortunati rispetto a loro. Perché l'esperienza e la conoscenza ce l'avete. Ce l'avete di fianco a voi. Nel posto di fianco a voi. Adesso. Avete un professionista che ha fatto la sua esperienza, ha fatto i suoi errori, ha fatto le sue conoscenze, ha lavorato per averlo. E quindi voi avete una cosa un pochino in più. Avete questa community grande di persone, questo acceleratore di esperienza. se volete essere esperti nel vostro campo. Mi parlavo con Stefano Pasquini un po' di tempo fa e mi diceva io sto nella community perché posso accedere all'esperienza degli altri. Questa per me è una cosa fondamentale ed importantissima. Quindi vi faccio vedere quali sono i modi in cui potete accelerare la vostra esperienza. Come potete accelerare la vostra conoscenza della tecnologia. La prima è l'Erasmus aziendale. Non l'ho inventato io. L'hanno inventato. Carlo, Luca, Giordano. Vanno un giorno, si prendono, vanno nel posto di lavoro dell'altro, vanno insieme ai clienti, vanno a vedere che cosa fanno. Fanno un confronto sugli fornitori, fanno un confronto sugli strumenti che utilizzano, fanno un confronto sulle varie cucine che hanno, vanno a mangiare insieme abbastanza abbondantemente. Poi qui c'è Carlo che viene messo davanti a un Lego. Se volete, poi c'è Giordano di fuori che vi fa fare qualche paperella, quindi se volete subire la sua stessa sorte ce l'avete. Erasmus aziendale, un modo per condividere le proprie esperienze. per poter migliorare. L'altro sono i nostri Giri d'Italia, abbiamo fatto un sacco, ne abbiamo fatto un altro, fino a Monguzzo, siamo stati ospiti di Paolo, Mara, eccoli qua, Elia, Riccardo, tutti, siamo andati lì, oltre ad aver mangiato bene, oltre ad aver visto un bellissimo castello, stati nella loro azienda, come sempre, il Giro d'Italia è questo, per chi non lo conoscesse, abbiamo visto anche un sacco di esperienze, persone che hanno raccontato la loro esperienza, le loro conoscenze. Quindi è stata una bellissima giornata che tra l'altro ha creato anche non solo un bel momento, ma anche tante collaborazioni che sono poi venute a fare. Queste sono le cose belle che poi io quando vedo queste cose vi arrisco un pochino, sono queste. Come dall'ultimo evento Nethesis, con RPM 2000 non si sbaglia mai la pausa pranzo, quindi tantissima, tantissima roba. E dopo tutte le portate e il dolce, ritorniamo in ufficio per vedere le ultime cose. E parliamo un po' con Paolo e Elia. Eccoci qua quindi RPM 2000 con Elia e Paolo. Noi ci siamo conosciuti esattamente dove, ti ricordi? Mi siamo conosciuti ad un webinar è vero, è vero. Ci siamo visti di persona durante il giro d'Italia. Durante il giro d'Italia sempre qua nei quei uffici c'era un po' più spazio se vi ricordate eravamo qua. Più ci siamo visti anche a un Together is Better sono di corsare a Parma. A Parma. Siamo venuti a trovarti e ne ho messo delle basi con una collaborazione esenzionale. però ci stiamo concretizzando sempre di più. Esatto, quindi effettivamente la community di Nethesis porta un sacco di valore aggiunto non possiamo dire niente assolutamente. Assolutamente, verissimo. Quindi continueremo e vi faremo vedere come proseguirà la storia. Ci avremo aggiornati. Ciao. E non solo perché poi dopo Stefano è uno che ha cominciato a portare Laura di Uniontel dai suoi da Mending Spoons poi l'ha invitata nel suo programma televisivo tutte queste collaborazioni che ogni tanto qualcuno mi dice ma sai che ho sentito con questo ho visto con quest'altro poi ci sono le nostre videoconferenze del lunedì che è un altro momento di condivisione di esperienze c'è uno speaker che parla che racconta la propria esperienza il proprio caso di successo tante domande che gli vengono fatte tanti confronti abbiamo avuto Gabriele che ci ha raccontato del loro MSP in azienda Stefano dell'Ussurna Securti questo cliente gigantesco Francesco internet target tra l'altro sentirete anche oggi Angelo tavole rotonde sull'RMM sull'access point è un altro momento di grandissima condivisione e di grandissimo valore poi c'è il meeting degli oraggi vitali questo è il momento principale di condivisione esperienza io cerco di la cosa che faccio avete visto stamattina cerco di farvi conoscere di presentarvi di creare questi fili questi fili tra di voi perché secondo me da lì viene fuori veramente una cosa molto bella ieri sera poi un po' troppo perché la gente dopo la pericamp è andata un po' in giro oggi pomeriggio dalle 5 in poi 9 presentazioni 9 persone che racconteranno la loro esperienza mi invito a rimanere perché sarà una cosa interessante qua c'è un gruppo di volontari della community qua fuori hanno il loro banchetto mi hanno detto che hanno già finito le magliette ma non ci voglio credere però in generale potete andare a chiedere a loro cosa significa fare esperienza cosa significa partecipare a una community e poi la community è anche un po' relazione non soltanto esperienza quando vedo queste cose sono rinfrancato Luca ha avuto una piccola pressoncina non è andata benissimo per cui ha detto mi avete tenuto compagnia in questo piccolo mio problema vi ho letto mi avete fatto compagnia mi avete dato tanta energia extra questa è un'altra cosa che quando le vedo mi fa molto piacere allora i fratelli Wright quando hanno volato per la prima volta sono diventati chiaramente famosissimi e hanno speso tutta la loro seconda vita a insegnare la loro esperienza a insegnare la conoscenza del volo a insegnare a tutta una generazione di piloti che nel mondo volevano imparare a volare e alla fine questa è una la loro diciamo la geografia finale che sta nella loro biografia i nostri risultati migliori sono sempre arrivati quando abbiamo inseguito una maggior conoscenza piuttosto che un maggior successo una maggior conoscenza questo è il grosso augurio che faccio io oggi a voi se volete migliorare voi stessi volete innovare nelle vostre aziende inseguite la conoscenza sempre che si impara a condividere con gli altri si impara dagli altri e la community può essere la vostra pista di decollo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti